Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti, ma soprattutto bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja. Era un po' che ero fermo, era un po' che non parlavo più di Tartarughe Ninja. Oggi parliamo di Tartarughe Ninja numero 64, dopo la sigla. Teenage Mutant Ninja Turtles numero 64, targato IDW per l'edizione italiana di Panini Comics, è uscito a gennaio 2024 e non ne avevo ancora parlato, anche se a gennaio 2024 ho comunque parlato di Tartarughe Ninja, già vi ho fatto vedere il mio video con Kevin Eastman all'Umbria, vi ho fatto vedere che era mia intenzione appunto sistemare il furgoncino delle Tartarughe Ninja che lui mi aveva autografato, potreste notare alle mie spalle che questa cosa è già stata fatta, ma arriverà anche il video con tutto il lavoro che c'è stato dietro, ovviamente, ma oggi parliamo di Tartarughe Ninja 64, uscito appunto a gennaio. Sono numeri americani usciti nel 2021, quindi noi sempre abbiamo questo ritardo di circa un paio d'anni, che è una cosa a cui ormai non siamo più abituati nel mondo del fumetto, nel mondo del cinema, nel mondo della televisione, però è una cosa che a me, in alcuni versi mi piace anche avere questa ponderatezza che gli americani sono andati avanti a fare da cavie per questi numeri che noi stiamo leggendo solo adesso. E una cosa che si sta notando, che sta un po' fermentando nel panorama americano, è appunto che questa run, questa gestione delle Tartarughe Ninja sotto Sophie Campbell, non è che non sta piacendo, sta un po' girando intorno a se stessa. È una cosa che io su alcune cose sono d'accordo, su altre un po' meno, adesso vediamo cosa intendo. Però di base, soprattutto con questo numero, sto iniziando anch'io a sentire un po' la fatigue di questa ambientazione, diciamo. In più noi abbiamo una cosa che in America non hanno, ovvero noi abbiamo tutto pubblicato nello stesso fumetto, perché altrimenti non venderebbero gli spin-off, già fanno fatica a vendere i fumetti, a pubblicare i fumetti, perché siamo pochi ancora che leggiamo questo formato, dobbiamo aumentare. Fortunatamente sta uscendo anche il formato incartonato, tra un po' uscirà il quinto in copertina April O'Neil, e questo porterà magari i nuovi lettori, però insomma, non potremmo pubblicare gli spin-off in, come si dice, in fumetti separati. Però, però manco così, in questo numero, nel 64 italiano, se voi andate a guardare, ci sono tre storie, su quattro, americane, ci sono tre storie dedicate a Jennica. È lo spin-off di Jennica, non è la serie regolare dove non ci sono le tartarughe ninja, semplicemente è uno spin-off dedicato a Jennica. Ora, questa cosa non capisco perché in America dia fastidio, perché è una serie a parte, quindi... Cioè, va benissimo, nel senso, puoi anche fare uno spin-off sulla nulla, non è la serie principale. Però, e molti si lamentano, ah, le tartarughe ninja sono diventate Jennica e le tartarughe ninja. Vabbè, è lo spin-off. Però qua in Italia le posso capire, perché qua è tutto pubblicato nella serie regolare e l'effetto è un po' questo. E devo dire che anch'io inizio a risentirne, se non nell'anima, quantomeno nel portafoglio, perché, porca miseria, il numero 64, come tutti gli altri, costa 13 euro. E se io devo comprare, spendere 13 euro di fumetto per trovare tre storie su quattro di uno spin-off, ci penso un po' due volte a comprarlo. Ora, la Panini ha sempre fatto questo abbinamento di storia principale, spin-off con Spider-Man, l'ha fatto un sacco di volte con Spider-Girl, eccetera. Però prima mi metti la serie principale, poi mi metti lo spin-off. Ora, capisco che probabilmente non hanno pronta abbastanza storia principale da... E magari si vogliono anche levare un po' dalle balle gli spin-off di Jennica. Però ragazzi, così è davvero tosta difendere questo fumetto. Nel senso che io capisco che una persona che voglia vedere le tartarughe ninja, insomma, potrebbe rimanere delusa. Quando bastava banalmente fare due storie della serie principale, prima, e due storie di Jennica, dopo. La storia secondaria va sempre dopo la storia principale. Qua invece devo leggere tre spin-off, che per carità va bene come presentazione, perché uno dice, ok, voglio arrivare alla storia principale e mi leggo gli spin-off. Però, insomma, a livello estetico non è neanche bello da vedere che c'è prima lo spin-off e poi c'è la serie principale. Però, vabbè, e questa cosa un po' mi sta iniziando a stufare. Tant'è che, appunto, la bella notizia, tra virgolette, è che a breve le tartarughe ninja, c'è chi dice la collana delle tartarughe ninja, si fermerà al numero americano 150, perché chiude, basta, la collana chiude e ci sarà un reboot. Vi ricordo che qua siamo al numero circa 118, 118-120 della collana americana, quindi tra 30 numeri americani, quindi molto presto, dovrebbe interrompersi la collana dell'IDW. Poi questa voce è stata ritrattata e fondamentalmente si è detto che non sarà veramente un reboot da zero, sarà un soft reboot, quindi la continuity sarà mantenuta, sarà un attimino ripulita tutta questa continuity enorme che una persona che prende in mano il fumetto dice non ci capisco niente. E questa cosa, dopo tutti questi numeri a Mutant Town, la gradisco anch'io. Parliamo appunto di Mutant Town, ora, al di là di quello che è la storia principale di Jennica o la storia regolare, che come numeri in sé a me sono anche piaciuti, mi sono davvero piaciuti. Una storia introspettiva sul passato da assassina di Jennica è molto interessante, peccato che, diciamo, è presentata nella maniera sbagliata, un po' come la nona stagione di Scrubs, che non è una nona stagione, è uno spin-off. È ovvio che se tu me la presenti come nona stagione, al fan girano le scatole. È un po' quello il concetto. Poi di per sé la storia è anche bella, i disegni come sempre sono ineccepibili, io li adoro da morire. Però in generale, sia per quanto riguarda la storia di Jennica, sia per quanto riguarda la storia principale, questa continua ambientazione a Mutant Town, tra l'altro con personaggi, appunto, umanoidi, animali antropoformizzati, che non si riesce a capire, dovrebbero essere tutti umani di New York, diventati mutanti, diventati animali. Però, al di là che non si riesce a capire perché sono animali di specie diverse, vabbè, l'ho già detto nell'altro video, potrebbe essere stata proprio la bomba che ha sparso del DNA a seconda delle persone che respiravano questa bomba mutagena. Però, al di là di quello, sembra proprio, sembra di leggere un fumetto di Paperino, di Topolino, dove sono tutti animali antropoformizzati. Il bello delle tartarugue ninja è anche che si devono un po' nascondere nell'ombra dagli esseri umani. Qui veramente stiamo assistendo a un fumetto con soli animali. E poi anche lì ci sono dei mutanti che cacciano gli umani da Mutant Town perché sono umani, ma in teoria queste dovrebbero essere esseri umani che sono diventati mutanti. E Mutant Town non esiste da troppo tempo, non esiste da tantissimo tempo. Fa strano che delle persone si siano rassegnate così tanto alla condizione di essere mutanti al punto da rinnegare la propria umanità. A meno che non siano appunto i mutanimali di il vecchio diavolo che invece sono mutati da animali. Però fa comunque strano perché dici allora dovresti odiare anche i mutanti che vengono dagli umani. Diciamo che c'è un po' di confusione anche nel progetto di vecchio diavolo. Sembra un po' di panarsi la nebbia nel prossimo numero che ho già letto. Al di là di questo, c'è anche un'altra figura in copertina. Ci sono due figure in copertina, c'è April O'Neil, Baxter Stockman e c'è questa figura che non si capisce chi è, a me sembrava Cassandra Nova degli X-Men. E invece pare essere appunto lo spirito, a volte tangibile e a volte intangibile, di Oroku Saki. Lo spirito di Oroku Saki che sta continuando ad aiutare le tartarughe ninja nell'ombra. E ci sono state un paio di occasioni dove questa presenza viene notata. Viene notata da Baxter, viene notata da April e verrà notata, se non sbaglio, anche da Raffaello nel prossimo numero. Quindi stanno lentamente rintroducendo Oroku Saki. Poi ci sarà sicuramente uno scontro perché Oroku Saki è il nemico delle tartarughe ninja per eccellenza. Anche se adesso si è redento e li sta proteggendo, sicuramente ci sarà della sfiducia e dell'odio. E questo non vedo l'ora di vederlo. L'altra componente è appunto April O'Neil che nel finale della storia scopre l'ennesimo traffico losco di Baxter Stockman e di mutanti molto aggressivi e vuole denunciarli, ma Baxter Stockman vuole ammazzarla fondamentalmente. April O'Neil viene morsa da uno di questi mutanti, si rifugia in Mutant Town e come diretta conseguenza Baxter Stockman sparge la voce che lei è contagiosa e non può uscire da Mutant Town. Questo finalmente ci porta almeno a riavere un essere umano della vecchia gang in Mutant Town in modo da avere di nuovo innanzitutto un equilibrio tra umani e mutanti. Ci ricorda che stiamo leggendo le tartarughe ninja e non Bern la casa blu o Beastars eccetera. E poi spero che questo porterà anche a sconvolgimenti all'esterno di Mutant Town perché appunto finché tutto ciò che viene operato in questo ghetto, che come concetto è bellissimo quello che vuole trattare Sophie Campbell parlando di questo ghetto mutante, però finché viene trattato in questo ghetto le minacce sembrano anche meno reali, sembrano meno mondiali. Se si ricomincerà ad uscire dal ghetto per salvare New York, per salvare il mondo, potrebbe darsi che si respiri di nuovo quell'aria da primi numeri di tartarughe ninja che ormai non si sta più respirando. Quindi ecco, solo questo. Quindi posso capire perché non sta piacendo tanto tartarughe ninja negli Stati Uniti. Forse negli Stati Uniti sono abituati a lamentarsi senza sapere per cosa si lamentano, quindi vedono, dicono ok c'è Genica adesso è tutto uno schifo perché c'è una tartarughe ninja donna. Quando in realtà probabilmente il problema è proprio perché sta girando tutto troppo intorno a questa Mutant Town ormai stagnante. Si potrebbero raccontare altre mille storie all'interno di Mutant Town, ma non è questa la testata fondamentalmente. Noi vogliamo vedere le tartarughe ninja combattere, vederle praticare il ninjitsu, vedere che sono dei guerrieri d'onore rispetto ai nemici che sono invece senza scrupoli. Questo vogliamo vedere fondamentalmente. E questo sta un po' mancando. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito i miei sproloqui fino alla fine di questo video. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video sulle tartarughe ninja che sarà settimana prossima. Invece durante la settimana ci saranno i classici video su Dilan Dog, su Dilan Dog ancora se non sbaglio, e così via, così via. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo andamento delle tartarughe ninja se siete arrivati fino a qui, se invece state prendendo la serie grossa, regolare. Che cacchio siete qui a farvi spoilerare i video? No, anzi, scherzo, guardate i miei video. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a tutti.